Sceglia, scelia, scelia, scelia Per quanto è innescata ancora c'è da fare, amerai si ame. Per loro si è conclusa una parte di vita scolastica. I tre anni che sono stati con me, un anno con le altre maestre, e un altro pezzettino del mio cuore che si aggiunge a poco, di averli avuti tutti con me e di aver avuto quest'anno queste magnifiche colleghe che mi hanno aiutato, mi hanno portato alle quali io non posso che dire grazie. Linda, Fiorella e Monica. E poi... Alle nostre OEBA, Linda e Silvia. È stata bravissima come Marzia, ci hanno aiutato, ci hanno supportato in tutto, in tutte le idee un po' strane che io, Monica, Fiorella e Linda abbiamo fatto. E quindi dicevo che grazie. Grazie a voi genitori. Grazie a voi. Per tutto quello che avete fatto in quest'anno, ci avete supportato veramente voi in tutto.